Il giorno della proiezione di Star Wars noi siamo venuti a parlare per la proiezione di Nemo il giorno 17 ci sarà la prima proiezione di Nemo, il film per i ragazzi del commerciale di Milazzo e quindi stiamo andando a provare ci vuole un file particolare per il cinema che abbiamo convertito ieri e stiamo vedendo se funzionerà Staremo a vedere, ecco il cinema da dietro Questo qua è il cinema da dietro Sì Se ci dà un audio su un computer lo diamo Io spero di sì perché sembra che l'audio lo sentivo dal computer Dovrebbe essere pari separati da dire Sì Spettacolo E' micidiale compara Scendere alle scale Questo posto, sì, steampunk Ah dai, errore? Eh noi stiamo arrivando, parliamo, ma tu sei là? Dai, errore, non parliamo Al 40% ha dato errore Sì, questo Sì 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 Lo stacca e lo attacchi sempre Io lo stacchi e lo attacca E' attenta E' attenta E' attenta E' attenta Così come la prima Ma così è grande Prima era piccolino Buongiorno Tipo un quarto d'ora fa dormivo E ora sono in macchina che stiamo andando alla... Premiere Alla premiere Alla prima Di Nemo Siamo gli unici che riusciamo a far proiettare al cinema il film Un anno dopo tipo la sua uscita E' uscita il 23 dicembre 2014 Oggi è il 17 dicembre 2015 E lo stiamo proiettando al Cinema Liga di Milazzo Per il commerciale Poi speriamo di proiettarlo anche per le altre scuole Vedi com'è bella Nando E' proprio la finale del mondo Finchia Guardi qua Arbitro Arbitro Fallo Fallo Niente 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 Un sorprezzo Madre del Dio che sono belle Che bella luce Siamo pronti Occhio Comunque YouTube è YouTube ma quello che senti quando c'è proprio la cosa del cinema non è la stessa cosa Sono cose concrete Da sopra si va da fuori vero? Da sopra si va da fuori Dobbiamo fare il giro Un attimino Da sopra? Per andare sopra Dobbiamo preparare le cose un attimino Del computer e tutto quanto Se lo farei il giro C'è lui e sopra Aspetta che vi faccio un po' di ricerca Esatto Per andare sopra Chi era questo? Tocca No, chi era questo? Ora Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Carmelo Cambria in Carmelo Cambria Libro storico C'è pure la storia Kennedy Fortissimo Hitler La linea Hardwood La linea Il 68 Il riassunto Ora ci vuole, riassunto storico Ma saranno uguali a quelle da... Sono spettato comunque Chi lo vede adesso? Qui di questa location Non si immagina Tipo non sa proprio dove sono Noi tipo ci fissiamo con queste cose, non si vede il buono Fuori, fuori dentro Spazio grande, piccolo Bello sto sparatorio Sembra il far west Stando qua così vicino al muro Stiamo respirando il calcio estruzzo Proprio va a dare Sì Ora entri il secondo gruppo Aiuto 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 Salve agente, l'agente Emily è stato mandato dal Baha, Arabia Saudita Sì Mi dispiace se fumo? Con un buon giorno, spero di andarci Cosa ci diamo di ubriare, no? Guerra? Che? Un momento lo so se li può essere ragazzi Carmelo Cambria Carmelo Cambria I nomi hanno l'ordine di fotografare e catalogare tutto ciò che di nuovo arriva in paese Traffigli di informazioni Agli occidentali non interessa più che un prodotto originale Guarda Attos Non c'è scampo, non fai Guarda Ma ci sono mostro, un scappo No, questo qua l'ho visto Così è così Hai la borsa? Perfetto